buongiorno buongiorno del dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad una persona di new york stati uniti che mi chiede dottore ma perché lo fa perché parla tanto perché fa un sacco di dai un sacco di informazioni sull'ipnosi mi spiega il suo motivo il perché e poi manda le persone anche ad altri studi bene rispondo a questo signore di new york rispondo anche a te la mia mission quello che faccio è una missione per me ok non è un lavoro e come diceva il buonanima di niccio se c'è qualcosa che ti piace non lo chiami lavoro lo chiami passione a prescindere dal discorso economico perché come ho detto in molti video sto bene per le prossime 37 vite e non lo dico per vantarmi ma per ispirarti grazie a dio grazie alla mia mente grazie all'ipnosi dcs vera e professionale con maiuscola faccio quello che faccio per ispirare le persone ad andare anche se non usano il metodo dcs l'ipnosi dcs vera e professionale unica al mondo anche se non vogliono scaricarsi audio dcs dal sito della mia associazione i prologi associati los angeles baby lils a cui ho ceduto tutti i diritti sugli audio mp3 dcs tu puoi andare da qualsiasi professionista dell'ipnosi però attento vera e professionale con la v maiuscola e non l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da film l'ipnosi da spettacolo sederti e provare a risolvere il tuo problema anche se questo professionista non usa il metodo dcs unico al mondo in tutti i sensi immaginabili e possibili l'importante che questo professionista abbia già affrontato con l'ipnosi conformista e commerciale casi come il tuo perché questo per non spendere soldi ad micam perché dalla mia esperienza ho capito che per volare con un aereo con un boeing bisogna avere tot ore di volo forse mille non mi ricordo più ma più ne hai meglio è ma sempre per evitare di sprecare soldi inutilmente quindi in qualsiasi parte del mondo in cui tu abiti siccome ho sospeso al momento le mie sessioni online di ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola unica unica al mondo soprattutto su skype per problemi di tempo ed impegni perché sto cercando di aiutare più gente possibile puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale b maiuscola della tua zona in qualsiasi parte del mondo in cui abiti poi se non ti fidi esiste anche esistono anche medici psicoterapeuti psicologi oltre che consular mental coach con camice bianco che ti può tipo che se ti ispirano se ti rendono più tranquillo più tranquilla ti siedi e inizi un una seduta con un con questa ipnosi che è la chiave del tuo subcosciente non esiste soluzione migliore della tua mente del tuo subconscio ok a prescindere dal sottoscritto mettimi da parte non mi interessa a me interessa che la gente sappia che esiste l'ipnosi vera e professionale e che può aiutare le persone poi l'ipnosi di csv era professionale con la v maiuscola ragazzi è diversa è unica perché serve per bambini adulti anziani serve per casi impossibili serve per non ti fa mettere gli auricolari non ti stressa non ti impegna non ti ruba il famoso tempo non richiede la tua volontà il tuo impegno eccetera 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 e aiuta anche le persone che non vogliono o che non possono ricevere aiuto ti posso garantire che ce ne sono parecchie dai bambini alle persone anziane allettate io ho aiutato persone di 92 anni bambini di 4 anni eccetera eccetera in tutto il mondo per cui ti posso garantire che il tuo subcosciente può fare il miracolo della tua stessa mente poi altro discorso e se non vuoi girare cappelle ci mancherebbe altro se non vuoi girare cappelle non vuoi andare da un professionista dell'impresa della tua zona a prescindere da dove abiti nel mondo puoi anche iniziare scaricando di un audio mp3 dicesse come ha fatto 100 hanno fatto centinaia di persone che fa al caso tuo oppure per il tuo caro che puoi aiutare anche se lui non vuole e seguire le istruzioni molto facile alla prova di un nonno alla prova di un video dalla prova di un piccolo e meravigliarti del potere della tua mente profonda l'88 per cento della tua mente e poi magari mi fai una bella video testimonianza perché la mia mission alla mia missione non è quella di vendere audio mp3 dicesse o sessioni online di plus dicesse che peraltro sono sospese la mia mission è quella di divulgare diffondere le mie esperienze dirette il mio metodo dicesse che mi ha cambiato la vita a me a centinaia centinaia di persone nel mondo e che proviene direttamente da los angeles baby hills due grandi artisti dell'ipnosi vera professionale unici al mondo la dottoressa rina brunini il professore dottor michael angel garai mie maestri mie mentori mie associati mie amici per l'eternità hanno stravolto letteralmente la mia vita il 2008 ad oggi a tal punto che ogni santo giorno sono ipnotizzato h24 significa che anche adesso sono ipnotizzato e sa perché lo faccio perché non mi costa nulla non mi ruba tempo non mi impegna non 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 mi stressano mi fa mettere gli auricolari per cui perché no mi sono detto e quindi ho fondato il mio metodo che ha preso il nome di metodo dcs del dottor claudio saracino unico ripeto ancora una volta al mondo che tu ci credo no e anche se tu sei un esperto di ipnosi eccetera eccetera non pensare di sapere tutto perché io prima di conoscere la dottoressa rina brunini il professor dottor michael anche il garai a causa di un iclus molto grave è capitato a mio padre avevo girato tutto il mondo avevo fatto mille corsi da autodidatta partito da autodidatta ma poi avevo approfondito e ti posso garantire che non esiste al mondo nessuna suggestione nessuna nessun metodo come quello scoperto da me a los angeles beverly hills ok pensa che l'ipnosi vera professionale con la v maiuscola riconosciuta come medicina alternativa dell'associazione medica mondiale nel 1958 e dalla stessa chiesa con papa pio nono nel 1847 e lo stesso papa giovanni paolo secondo papa votila il papa polacco si auto ipnotizzava per imparare le lingue straniere ne conosceva più di 12 come ha dichiarato nella sua biografia che vi invito a comprare e a leggere per cui che cosa vuoi che ti dica in tutti gli ospedali del mondo la usano negli ospedali per l'anestesia per le persone intolleranti ai farmaci e se chiedi al tuo medico non sa perché su 100 medici soltanto uno conosce l'ipnosi vera e professionale che si usa anche negli ospedali anche come ipnosi medica eccetera eccetera non devi disperarti perché la tv o il tuo medico curante ti dicono che non esiste che sono tutte sciocchezze ma persevera scaricati materiale su internet magari tutto gratis e approfondisci poi se non risolvi il tuo problema puoi vedere anche con l'ipnosi dicesse vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo e iniziare anche da un solo audio mp3 dicesse fatto di parole parole semplici comprensibili trasparenti pulite però create ad arte ad hoc che guidano il tuo subcosciente a fare il miracolo della tua stessa mente infatti la tua mente a guarirti a trovare la soluzione al tuo problema al tuo desiderio la tua esigenza al tuo bisogno e le mie parole la mia voce fanno soltanto da guida se solo se segue la lettera le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi avuto ipnosi del dottor claudio sarecino iscriviti a questo canale youtube gentilmente benessere ipnosi soluzione dicesse del dottor claudio sarecino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me a centinaia e centinaia di persone nel mondo e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dicesse del dottor claudio sarecino un bacino abbraccio amico amica mia e la prossima dal dottor claudio sarecino alla tua ciao